Dopo il bel pareggio di Lazzate, l'Oltrepo sfida il base 96 per centrare alla prima vittoria dell'anno, obiettivo che vuole rincorrere anche la formazione bevanzola per tenersi sempre più lontana dalle zone pericolose del girone A. I padroni di casa iniziano subito a bustare alla porta degli ospiti, ma una deviazione in anticipo su Ferraro ed un mancato rigore in favore dei pavesi inizia a sollevare la mentele nei confronti del direttore di gara già dai primi minuti. I bianco-verdi si fanno vedere al quarto d'ora con questo tiro telefonato di Siviero. Ma la gara cambia volto dopo appena 20 minuti. Presunto contatto tra Villoni e Cazzaniga. Per l'arbitro Pastori è fallo e cartellino rosso diretto per il classe 2004, che lascia anzitempo il campo oltre che i suoi compagni in 10 uomini. Sul punto di battuta va lo stesso numero 10 che insacca il pallone alle spalle di Masotino e fa 1-0 per il base 96. Per il giocatore classe 96 è la nona rete stagionale. Sugli alli dell'entusiasmo la formazione di Varaldi prova dopo poco il raddoppio, ma la prima occasione di Cavaliere è respinta da Masotino, mentre la seconda opportunità di Kamal finisce lontano dalla porta di casa. L'occasione però arriva anche per i bianco-rossi ed è ben sfruttata. Palla in area di Florenzianes, colpo di testa di Gabrielli e Franchini in girata trova la rete del pareggio al minuto numero 33. Per l'ex bogherese le marcature in campionato diventano così 10. I brianzoli non si fanno intimidire e rispondono a tono. Cazzanica salza a Florenzianes e vola verso l'area. Arrivato davanti a Masotino serve Cavaliere che cae il sipario sul primo tempo con un nuovo vantaggio per i suoi. Quinto gol è stagionale per l'ex Bugio e Vittuone che festeggia sotto la tribuna insieme ai compagni. L'ultimo istante della prima frazione è un corner per l'oltrepò. I ragazzi di Barbieri lamentano un altro rigore non concesso ma l'arbitro risponde fischiando la fine dei primi 45 minuti. La ripresa comincia con Cavallotti servito benissimo da Franchini ma il direttore di gara fischia il fuorigioco del numero 8 che lascia come minimo qualche dubbio. Gli ospiti ne approfittano della situazione e costruiscono così un bel fraseggio che porta Canizzaro a trafiggere Masotino e portare il parziale sul 3-1. Ottava rete in stagione per l'ex Saregno che corona così una partita giocata da protagonista. Dopo alcune occasioni non clamorose l'oltreposti vede fischiare un rigore a favore per questo fallo di mano sul passaggio di Franchini. Dal dischetto va Riccardo Vaglio che batte Porro e rimette in corsa la formazione pavese. Doppia cifra anche per l'attaccante ex Tritium. Il numero 7 cerca la doppietta personale ma il tiro si spegne a lato di poco. L'episodio più clamoroso arriva pochi minuti dopo. Medici atterra cavallotti in aria ma l'arbitro Pastori non fischia nulla ed in tribuna si infuriano i presenti con polemiche che dureranno per praticamente un minuto. Il match di fatto si spegne con questo tiro di Cazzaniga che colpisce in pieno l'incrocio dei pali. Perché occasioni rilevanti non ce ne sono più e dopo 4 minuti di recupero Pastori fischia la fine. Un buonissimo il trepo cade contro il base 96 Seveso che conquista così 3 punti importantissimi in chiave salvezza. I biancolosi restano al quarto posto con 3 punti persi che faranno tantissima polemica ancora per un po'.